Ma si tratta della pubblicazione di tutto quello che i visitatori che sono andati sul campanile hanno scritto sui tablet messi a loro disposizione per evitare che scrivessero sul muro delle scale. Questo progetto è partito insieme alla pulitura, al restauro completo delle scale stesse, l'ultima parte restaurata, l'antica campana del 400 che è in alto al campanile, depositata a terra perché ovviamente non suona più e in questo modo si è evitato che le persone scrivessero sul muro. In otto mesi soltanto sette interventi abbiamo dovuto fare per rimuovere scritte che erano state fatte nonostante l'invito a utilizzare i tablet per esprimere i loro concetti. Avete avuto dei numeri anche particolarmente relevanti da questa iniziativa, un segno che c'è tanta voglia di scrivere. Sì, quello che non sappiamo è se siamo stati noi a incentivare la voglia di scrivere con questo giochetto oppure se effettivamente persone che avrebbero comunque scritto hanno preferito usare la forma elettronica digitale che ha un grande vantaggio comunque rispetto a chi scrive sul muro. Al di là della stupidità di chi appunto scrive sul muro. Il fatto che tutto quello che è scritto sul muro viene immediatamente rimosso. Quello che viene scritto sul tablet rimane in eterno perché noi abbiamo in archivio i documenti della realizzazione della cattedrale a partire appunto dal 1300 e ci siamo impegnati a conservare sia in formato digitale sia anche in formato di stampa quello che le persone hanno scritto e continueranno a scrivere. In questo momento c'è un lavoro di monitoraggio per accertarsi delle condizioni complessive di salute del Campanile c'è una commissione che lavorerà e ci vorrà qualche mese. Invece abbiamo iniziato proprio in questi giorni il restauro della scala che porta alla cupola che è in condizioni ben peggiori di quella della scala del Campanile e che è anche più lunga quindi richiederà un intervento sicuramente più importante. Faremo lo stesso sistema quindi anche l'e-tablet e renderemo possibile, si spera con lo stesso risultato, di non imbrattare più i muri del nostro monumento. Il vantaggio che abbiamo, lo dicevo prima, è che rispetto ad altri noi abbiamo un archivio che conserva. Forse è questo quello che consente a una persona di non utilizzare un sistema che è dannoso ma di preferire un qualcosa che comunque gli dà la garanzia di potersi ritrovare e rivedere anche a distanza di decenni. Lei parlava dei controlli al Campanile, era anche una questione particolarmente calda visto gli episodi degli ultimi mesi, soprattutto nel centro Italia c'è stato anche un certo allarme. Dai vostri primi riscontri se ne avete qual è lo stato di salute e soprattutto la stabilità dell'opera? Ma la stabilità c'è, ci sono tante condizioni anche di diversità rispetto ad altre situazioni quindi comunque questi controlli non sono, io l'ho chiarito molto, non sono assolutamente conseguenza di quello che è accaduto nel centro Italia. Era un'operazione programmata già da tre anni. Alcuni controlli vengono fatti sistematicamente, tutto il nostro complesso, due volte l'anno ed è quello che abbiamo terminato di fare con la grande gruppo proprio poco tempo fa. Ora si tratta di fare, quando abbiamo fatto una ricerca con un rilievo anche con le tecnologie più recenti del Campanile, questo ci ha generato un'esigenza di andare a rendersi conto in termini complessivi, non è tanto lo stato di salute o la statica, ma proprio in termini complessivi, il controllo dei marmi, la qualità dei marmi che sono stati utilizzati, per la prima volta un controllo del sottosuolo che non abbiamo mai fatto e che è importante per capire anche lo stato del terreno su cui il Campanile poggia.